Quest'oggi è stata conferita al consigliere comunale dottor Stefano Rossi la delega per i compiti di collaborazione con il sindaco di Pordenone in materia di presidio civico delle aree critiche ed elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto dei comportamenti devianti. Pordenone è riconosciuta per una città sicura, ordinata, con ottimi servizi. È vero, esistono alcune macchie all'interno della città, alcune aree in cui i cittadini non si comportano perfettamente oppure ci sono dei piccoli screzzi o delle situazioni che devono essere sanate. Attraverso questa delega avremo un'ulteriore antenna sul territorio, un ulteriore uomo che ascolta e che mette a disposizione della giunta gli strumenti per poter intervenire. L'importante è dare la giusta dimensione ai fenomeni, cioè una bottiglietta abbandonata in mezzo a un campo non è abbandono di rifiuti o un alterco tra due condomini non è una rissa. Ecco, tutto questo consenterà di portare maggior serenità, maggior ordine e dare anche la giusta proporzione ai fenomeni che accadono in città. Oltre alla cultura io anche come assessore le deleghe alle politiche giovanili e mi rincuora il fatto di poter avere al fianco un uomo come Stefano Rossi della grande caratura professionale e umana. Sarà una persona importante per l'ascolto e il monitoraggio del territorio, specie per quanto riguarda i giovani e magari aiutarci in questo senso attraverso una collaborazione tra lui e l'assessorato a costruire politiche giovanili sulle domande che fanno i giovani. Ecco, sarà un valido aiuto anche per quelle zone come via Pontini a Largo Cervignano e anche la casa dell'attività nuova di Valle Noncello. Il dottor Rossi, ex comandante del Corpo Intercomunale di Pulizia Municipale di Pordenone e Cordenons, commenta così il nuovo incarico. Con questa delega cercherò di dare un ulteriore impulso a tutte le attività che già l'amministrazione comunale sta portando avanti sui temi dell'attenzione per il territorio, in tal senso soprattutto per gli aspetti di potenziale disagio giovanile oppure di situazioni di potenziale disordine civico oppure degrado. Cominceremo subito con degli incontri, già questa settimana ci sono state molte persone con le quali ho colloquiato ma dalla prossima, martedì alle 18 sarò a Largo Cervignano davanti alla biblioteca Meri della Schiava e giovedì alle 18.30 in via Pontinia. Un lavoro che iniziamo e che porto avanti con entusiasmo e auguro e spero che tutti collaboreranno per darmi una mano su questo.